Oltre mille euro raccolti grazie a Dio Pizzo e alla lotteria regaliamo una sorpresa, cifra consegnata questa mattina al Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Ursino Recupero, come atto di solidarietà nei confronti di un'istituzione storica della nostra città che però vive serie difficoltà. Più di mille euro raccolti a favore della Biblioteca Ursino Recupero, un'altra bella iniziativa lanciata da Dio Pizzo alla quale comunque hanno risposto in tanti catanesi. Sì, come ogni anno hanno sempre risposto bene i cittadini catanesi quando li abbiamo chiamati a dare con la loro solidarietà un aiuto ai vari nostri progetti. Anche quest'anno abbiamo cercato di dare una mano a questa biblioteca, patrimonio storico e culturale della nostra città. Ci è sembrato un atto dovuto, diciamo così, da parte nostra perché legalità significa anche cultura e quindi dobbiamo cercare in qualche modo di aiutare la Biblioteca. Come ha voluto sottolineare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'On. Salvo Flares, queste iniziative danno l'occasione di puntare l'accento sull'aspetto della cultura e sull'aspetto della legalità. Lo stesso Flares ha parlato anche dell'appuntamento che il prossimo 7 giugno alle ore 20 si terrà nel refettorio piccolo della Biblioteca, una serata dal titolo passeggiando nell'averismo catanese. Il contributo d'ingresso che sarà utilizzato per la tutela e la conservazione del patrimonio liberario è di 20 euro. Onorevole, la consegna stamattina della somma raccolta da Dio Pizzo fa capire quanto è importante la cultura e come attraverso la cultura si possono combattere varie forme di illegalità, soprattutto a favore di un'istituzione come la Biblioteca Ursino Recupero che spesso viene dimenticata da chi dovrebbe invece occuparsene. Io credo che la cultura sia il miglior antidoto nei confronti della criminalità, della devianza in genere. Credo che l'iniziativa di Dio Pizzo sia di straordinaria importanza perché mette insieme il territorio di Catania con questo suo splendido bene culturale che è la Biblioteca, attorno alla quale si stanno raccogliendo le solidarietà di molti catanesi e non soltanto di catanesi. Abbiamo ottenuto i contributi spontanei anche di stranieri, di cinesi, di industriali. Nei prossimi giorni ci sarà proprio qui nella Biblioteca uno spettacolo che rievocherà i veristi che hanno frequentato questa Biblioteca e l'intero incasso sarà devoluto alle attività di manutenzione della Biblioteca stessa. Credo che sia questo un segnale di grande interesse e di grande entusiasmo attorno a un bene come questo che è molto amato dai catanesi.